salve a tutti ragazzi qui è ten questo credo che sarà il mio ultimo video su questo canale perché a causa del copyright youtube me lo sta demolendo diciamo tra virgolette questo canale e quindi ho avuto subito la prontezza diciamo di creare un nuovo canale che però tratterò in modo molto più conseguire quei guanti diciamo perché questo canale ho iniziato a fare i commentari mi sto divertendo poi inizia a buttarci dentro anche tribute i montaggi musicali e lì mi hanno distrutto tutto perché inizialmente youtube non mi diceva niente se utilizzavo queste canzoni le mie video perché il copyright sembrava non dar fastidio e invece adesso tutti quanti i miei video devono essere sono stati cancellati dal mio canale perché youtube mi ha messo in reputazione rossa mi ha mandato un reclamo ha detto chiudere il canale e quindi l'ho dovuto cancellare credendo che cancellandoli se levasse questa questa diciamo questo marchio l'ho cancellato tutti ma invece è rimasto e credo proprio che rimarrà finché non chiuderò il canale io il canale non lo chiudo perché comunque mi ha dato un sacco di soddisfazioni e credo che continuerò a caricare tribute finché youtube non lo chiude comunque va a resta e ho creato questo nuovo canale che è incentrato soprattutto nel mondo di halo mondo multiplayer comunque tutto il mondo di halo e anche su altri videogame soprattutto per xbox 360 e pc questo canale si è ruster game già stato creato già c'è stato un video presentazione e quel quadratino che vedete voi basta che ci cliccate sopra e andate direttamente al video presentazione vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale perché voi mi avete dato tanto supporto per questo canale sono contentissimo di aver conosciuto questa questa bella gente e spero che mi potreste continuerete a seguire anche sul nuovo canale che è ruster game appunto ragazzi il video sta per concludersi e vorrei salutare tutti quelli che mi hanno seguito questi questi diciamo due tre mesi e vorrei graziare tutti proprio tutti quanti quelli di che mi hanno supportato ragazzi questa è la fine del video allora al prossimo video su ruster game bella grazie a tutti